Pure senza. Da dove arriva signora? C'è un servizio da fare, adesso ve lo dico. Io sono di Roma, vido qua vicino. E secondo lei Berlusconi è un martire? Berlusconi non solo è martire, sono invidiosi perché lui è buono ed è generoso, ed è un gran lavoratore. E quindi adesso che deve fare? Il governo deve cadere o no? No, no, non deve cadere, assolutamente, perché non fa cadere alla sinistra. Il PD? Sì, il PD, perché dopo Berlusconi c'è grilli da combattere, perciò al governo la sinistra non c'è mai. Ok, grazie. Prego. Fate un servizio alla signora, a questa pelle viene da Napoli.